C'è preoccupazione nel Salernitano, a Frattepellezzano, dove si rischia un'emergenza ambientale per i liquami chimici fuoriusciti da alcuni bidoni presenti in un deposito delle ex manifatture cotoniere meridionali in corso di bonifica dal 2018. Le esalazioni maleodoranti diffusesi in tutta la zona hanno fatto scattare l'allarme tra i residenti, mentre si teme la contaminazione del vicino fiume Irno. Il sindaco di Salerno recatosi sul posto con il primo cittadino di Pellezzano, Francesco Morra, carabinieri, vigili del fuoco e ARPAC, ha rassicurato la popolazione, la situazione è sotto controllo. Dobbiamo aspettare che l'ARPAC faccia le analisi con coscienza, come giusto che sia, e ci dia il riscontro e il referto di quanto avrà verificato. Al momento la situazione naturalmente è sotto controllo, non è una frase fatta, ma è così, nel senso che sono state neutralizzate le emissioni d'origine con un'azione meccanica di copertura della vasca che aveva raccolto questo liquame con del terreno, con degli inerti. Però è una situazione assolutamente provvisoria, si dovrà poi passare a una sanificazione del luogo, sapendo però di che cosa stiamo parlando. Allora l'ARPAC è venuta proprio quella notte, eravamo lì tutti quanti alle tre di notte a verificare che cosa stava succedendo, ha fatto dei prelievi e ora ci dovrà dare dei risultati a stretto giro di posta. Grazie.